Musica Buonasera e benvenuti cari telespettatori deletando calcio Allora presentiamo questa platea illustra Allora salutiamo con noi Claudio Giarollo, nostro opinionista Buonasera Abbiamo con noi il signor Leonardo Peotta, assessore politiche giovanili del comune di Montecchio Andrea Pellizzari, assessore provinciale politiche giovanili Abbiamo con noi il dottor Amato Domenico, primario di ortopedia e traumatologia di Schio Fabio Nicolà, direttore generale delle Odari Sole Sivero Orazio, direttore sportivo delle Odari Sole Buonasera E con noi abbiamo due giocatori, Casolino Massimiliano, difensore delle Odari Sole Buonasera E Cogno Alessandro, che è il capitano della squadra delle Odari Sole Buonasera e benvenuti Ecco, buonasera e benvenuti Dopo questa bella presentazione, tanta bella gente questa sera E soprattutto una squadra da primato, i Leodari Sole Allora, questa sera, come potete vedere, cari telespettatori Abbiamo l'assessore alle politiche giovanili della provincia di Vicenza Il dottor Andrea Pellizzari Ha soprattutto nei confronti dei giovani una sensibilità particolare Perché questa sera ci parla di un progetto Prego, assessore Sì, beh, io vi ringrazio per gli inviti Oggi sono venuti perché abbiamo un progetto specifico che riguarda i giovani E quindi in questo caso la presenza aveva un grande significato Visto che c'è una forte capacità di coniugare da parte dell'amministrazione Quello che è un valore indiscusso come lo sport Con alcune finalità che sono rivolte ai più giovani Dobbiamo, da questo punto di vista, ringraziare il Ministero della Gioventù E l'Unione delle Provincie Italiane Perché ha finanziato un nostro progetto Di cui la provincia di Vicenza è stata capofila Rivolta in particolare ai giovani della zona ovest vicentino ed est veronese Perché al di là delle molte eccellenze che qui ci sono Ci sono anche delle particolarità Ossia un alto tasso di incidenza di alcuni infortuni stradali In alcuni casi addirittura anche di incidenti mortali Molto spesso provocati dall'abuso di sostanze alcoliche in particolare Quindi noi abbiamo prodotto un progetto Che ha la finalità tramite lo sport ed altri valori positivi Di indicare ai giovani che magari avessero bisogno di essere, tra virgolette, orientati Che ci sono dei modi più sani per divertirsi e per impiegare il proprio tempo Diversi da quelli che vengono definiti metodi, diciamo, da sballo Ecco, quindi questo abbiamo pensato che il calcio fosse un grande veicolo Proprio per i valori che riassume in sé Valori legati al sacrificio, all'impegno, al gioco di squadra Al modo positivo di impegnarsi per un obiettivo Bene, grazie all'assessore Bellizzare Ovviamente abbiamo anche qua, questa sera salutiamo per la prima volta L'assessore alle politiche giovanili della comune di Montecchio Ringrazio dell'invito Per me comunque il mondo del calcio Io sono stato un protagonista nei campi dei statistici Anche se non a livelli così alti magari come possiamo vedere qui questa sera Io ringrazio dell'invito Ringrazio l'assessore Andrea Bellizzari Per aver creduto in questo progetto Che vede coinvolto il territorio che va dall'Ovest Vicentino all'Est veronese Abbandonando quindi i soliti campanilismi Ma mettendo al centro della nostra attenzione Della nostra azione anche politica i giovani Giovani associati quindi a un valore importante Valore, parole spesso abusate Ma in questo caso credo sia opportuno utilizzarla Quello dello sport, quindi del rispetto delle regole La crescita tecnica ma anche umana dei ragazzi Allora volevo cari telespettatori ricordare i numeri di cui prima parlava l'assessore Bellizzari Pensate che sono stati 1181 giovani vicentini coinvolti in incidenti stradali Qualcosa di estremamente drammatico è appunto questa campagna Di cui l'assessore si fa paladino Noi lo dobbiamo soprattutto nel migliorare e nel sensibilizzare i giovani a correre di meno Vero Assessore? Sì è così, è una campagna di carattere come si dice tecnicamente valoriale È inutile pretendere di cambiare questa rotta semplicemente con i divieti e le negazioni Sappiamo bene che non funzionano Piuttosto è utile ed è auspicabile proporre dei modelli alternativi positivi Che cosa meglio dello sport? Quindi come provincia di Vicenza, assieme alla provincia di Verona e al comune di Vicenza Abbiamo sottoposto al ministero della gioventù Il nostro progetto all'interno del progetto province giovani Che c'è stato finanziato ed è uno dei dieci progetti a livello nazionale Che ha ricevuto quindi la risposta affermativa Ovviamente non mi dilungo nel raccontare i dettagli Piuttosto faccio un riferimento a quello che è il sito interno, il portale Dove può essere raccolta ogni informazione utile Sia sul versante dell'incinità di Trastradale Ma poi ce ne sono anche molti altri settori su cui vogliamo incidere Su cui magari potremo parlare in altre occasioni Il portale è www.provinciagiovane.net All'interno di questo portale c'è la possibilità di accedere a tutte le informazioni Di avere delle risposte Così come c'è un account in social network Facebook Che è sempre provincia giovane Vi invito ad andarlo a cercare, a chiedere l'amicizia Così all'interno di questo sito e di questo social network Potrete avere le informazioni in tempo reale All'interno di questo progetto abbiamo aggregato i comuni Che si stanno adoperando in maniera più brillante e efficace Sul settore delle politiche giovanili Per quanto riguarda l'ambito territoriale vicentino Ne abbiamo selezionati alcuni Di cui oggi ne abbiamo uno Che è il comune di Montecchio Maggiore Che ha una bella tradizione Grazie al sindaco Cecchetto E all'assessore Peotta Che sul versante politiche giovanili Ha molte carte da spendere In particolare è un bel servizio in forma giovane Quindi abbiamo pensato che fosse un alleato importante Nel corso delle prossime puntate Spero avremo l'occasione di poter illustrare Mare più nello specifico Oggi abbiamo spiegato che esiste questo strumento E che uno degli strumenti di cui si avvale È appunto quello dello sport È una palestra di vita Oltre che è una palestra ovviamente Di carattere tecnico agonistico E noi facciamo grande affidamento Su questo strumento Per diciamo strappare giovani alla strada Per convertirli invece Se ce ne fosse bisogno Perché molti sono bravissimi giovani Bravissimi ragazzi Qualcuno però magari ha bisogno Di ricordarli quanto è bello fare sport E quanto magari sia sbagliato Sballare in altro modo Bene Signor Biotta Quanto è bello fare sport a Montecchio Maggiore? Montecchio Maggiore è veramente ricca Sotto il profilo sportivo Numerosissime sono le società sportive Alcune di buon livello Ma che svolgono anche Per così dire Meno importanti Ma non dal punto di vista numerico Ma importanti dal punto di vista sociale Svolgono proprio questa funzione Di raccordo tra la società e le famiglie Le famiglie vedono nelle società sportive Un punto importante Per la crescita del ragazzo Ecco io punto molto sulle società sportive Proprio fino alla maggiore età È l'età più critica È più difficile Ma è l'età in cui i bambini E i ragazzi crescono E possono sviluppare tutto quello Che è necessario per la vita futura È tutto A me non resta che ringraziarvi Veramente di cuore Un bocca al lupo tanto tanto A Leodare Sole Perché raggiunga il proprio obiettivo Ciao Claudio Grazie per la serata Soprattutto ai dettori Che hanno presentato questa sera Un progetto molto valido Che ci accompagna ancora Per altre settimane Allora Buonasera a tutti E in bocca al lupo Buonasera a voi cari telespettatori Buon proseguimento Con il programma di Canale 68 Veneto Grazie E buonasera a tutti ancora Buonasera a tutti